ma buonasera duellanti teschio evocato mancava sul canale un deck sul teschio evocato anche se purtroppo non si può definire tale tech perché ci sono veramente troppe poche carte del che fanno combo col teschio evocato al mago nero al drago bianco al gai al caia gli hanno messo pure non lo so gli hanno meglio gli hanno fatto che ne so quello che vogliono senti o mi fai un sercino dato mi fai uno che evoca mentre al teschio evocato porco avete presente il meme tipo della mamma col bambino che lo tiene in alto e sotto c'è lo scheletro ecco il teschio evocato è la stessa identica cosa se noi andiamo a vedere quante carte ci sono del teschio evocato adesso lo sto scrivendo voi non lo vedete ma lo sto scrivendo quante carte fottutamente belle cioè belle in senso tra virgolette perché il teschio evocato è una carta fighissima bellissima poi il risveglio dell'arcidemone che abbiamo tre per nel deck non è neanche tanto male perché non può essere spaccato in battaglia con un mostro rituale cioè eccetto con un mostro rituale e non può essere distrutta dagli effetti dei mostri eccetto quelli rituali ma quanti deck rituali ci sono in giro al momento pochissimi quindi è bellissimo poi la manifestazione dell'arcidemone pompa di 500 tutti i mostri teschi evocato che controlli lui compreso perché tutti quanti sul terreno vengono considerati teschi evocato e poi l'oxys ascesa dell'arcidemone che se sta con materiale evitiamo la distruzione di qualsiasi teschi evocato sul terreno poi abbiamo un teschi evocato tunica beh l'ho messo monoperma non servono però bellissimi cioè sono fanboy clamoroso di quella carta e poi makyu la nebbia magica basta finite potevano mettere porco dio il cerchio del teschi evocato che cazzo lo attivi millicinque evochi tutti i teschi evocati che hai millato sarebbe un po troppo forte ma però sarebbe figa allora la deckliste 3x di teschi evocato 3 maxi 3 sign ovviamente analista super mega for fun però teschi evocato ci deve essere nel canale poi 3x di tour 2 arcidemone ereditiera che ricordiamo tutte le carte sono arcidemone quindi ne puoi andare a prendere tutte le tarte poi chi sono lei o anche il teschi evocato se ti piace averlo in mano e non solo fioritura a lei stertis che evocato tun 3 risveglio del porco dio uno spolverino 3 polimerizzazione invocazione fulmine tempesta zona mistica del plasma bellissimo vedete ma perché ma perché perché pompa di 5 tutti i mostri oscurità e tutti entrano che hanno tipo 3.000 3.500 utica più poi contratto con l'abisso 2 arte avanzata super poli richiamato dal porco dio depennatore di madonna e tre in permanenza e colpo solenne poi ci sono i nostri amici deus machina perché con la tour lo puoi fare facilmente in più si mette sul terreno il teschi evocato non combini comunque lui drago fusione 2x perché comunque con la polimerizzazione puoi farlo ci può stare manifestazione mascherina porco dio e porca la madonna teschi evocato è uno di veramente uno di quei deck che la konami ha scammato cazzo hai messo quattro carte in croce dio cane ma mettere un po di più metti metti qualche trappola inerente al tra al teschi evocato metti un cane di dio metti qualcosa no magari poi lo faranno tra un po tra quando saremo tipo avremo la barba bianca probabilmente ci vediamo un replay poi andiamo a fare la nostra partita online il replay è contro dragon link che non beccavo dall'era dei tempi quando c'era sauron nella terra di mezzo e gli anelli quel cazzo sto dicendo qua ho vinto solo grazie a una carta cioè guardate che mano di merda iniziale cioè in senso ok entra ma non niente gioco cosa che odio detto più più volte in tutti i video di non poter fare un cazzo alla parte il tizio evoca cioè attiva quella io subito mi frega un cazzo maxi subito tanto tanto il tizio non aveva blossom grazie a quel porco di signore attiva quella evoca quella era un mazzo strano era non era proprio dragon link puro era dragon link drago rosa dragon porco dio ma insomma mazzo un po di merda qua giocavo due teschi evocato ho detto ma perché cioè ne gioco uno da basta avanza l'ho levato ho messo la terza in permanenza che qua tra l'altro ci ha salvato il culettino tre in permanenza in tutti i mazzi top top clamoroso ok qua me la nega col barone dei fiori il tizio si evoca a livello 7 fa il drago calibro qui ho detto o pesco un'altra in permanenza oppure ho perso porco dio ho pescato l'altra in permanenza per negargli ho detto qua basta che evoca un 2000 ma ammazza invece no picchia picchia passa aveva già fatto abbastanza effettivamente due negate sul terreno ma già spaccato le palle iniziamo noi attivo subito fulmine tempeste per levar gli via i due stronzoni poi attivo mamma mia la tour che è il tizio grazie di no a nei macchini e mi hanno già no in cazzo poi avevo con l'arcidemone de merda e ho detto qua ho perso prima ho perso perché questo c'ho l'effetto di questa c'ho quattro carte in mano quando pesca io ok c'ho blossom che posso negare qualcosa colpo solenne posso negare un'evocazione e poi col dd posso fregare due mossi dell'avversario ho detto tanto me la ribalta lo stesso il tizio cosa fa attiva quella si rievoca due mossi dal dal coso evoca non so non ho capito bene che mazzo era solo che poi si è beccato colpo solenne e poi acquittato perché non aveva più modo di vincere pure un'altra di quella in mano passa perso perso da deus ex anzi no ha perso da tischi evocato che non si chiama tischi evocato ma risveglio dell'arcidemone picchia risveglio bellissimo bellissimo le invocazioni ovviamente le ho messe perché avevo picchiare con l'altro sbagliato le ho messe perché puoi farlo con la fusione però devi per forza avere il materiale quello vero cioè tischi evocato in mano oppure sul terreno perché quello lì pur chiamandosi tischi evocato non me lo faceva evocare peccato perché era carino come quello entra poi tutti i teschi evocato hanno anche anche questo effetto che non è male ma nulla di che che quando crepano quando l'avversario ce li fa fuori possiamo evocare un teschi evocato direttamente dal mazzo certo in quel replay di prima senza maxi era un gg clamoroso vediamo per favore konami ti scongiur mi fai giocare contro un mazzo non fortissimo che ne so contro mi fai giocare contro roid facciamo tischi evocato contro roid dai è bello cioè bello il cazzo però è bello per me porco dio ancora altre 60 card questo tizio ok questa è un'altra mano ovviamente clamorosa ma fortissima dove posso fare tour beccarmi blossom e settare due passare vediamo vediamo un po che dici me la fai blossom no la ti prego non la fai per favore dai ticcio c'è bravissimo mica non l'ha fatta veramente allora faccio il ddd quindi non gli metto sotto sangra se no non attivo l'effetto io metto sotto l'ereditiera che quando viene staccata parte invece l'effetto ci fa aggiungere un super mostro dell'archidemone che sarebbe il coso lì lo schifoso l'archidemone pezzo di merda allora stur anche se l'effetto è negato poi comunque va sotto quindi si slega l'effetto e partono lo stesso perfetto radarius il re della 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 porca madonna sì quello perfetto alla super poi la settiamo perché non si sa mai che cazzo vuole fare l'avversario se gioca un mazzo un mazzo di oscurità gli fondiamo facciamo il drago veleno se ha spolverino bestemmiamo gesù in quattro lingue diverse quattro lingue io ne conosco a malapena una e fa forse poco poco di inglese ma poco ma poco grazie a yugioh perché your opponent vuol dire il tuo avversario life points vuol dire life point ti prego gioca un mazzo di merda per favore mazzo tipo non so start così ci facciamo una bella vittoria e ce l'andiamo tutti affanculo una vittoria meritatis cosa gioca o dai bello 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 sushi bello sushi bello sushi perché perché c'è questa sul terreno per chi si ricorda nel qualche giorno fa ho messo il deck abisso porco gesù lì il abisso bruciante il primo replay è stato proprio contro un deck sushi bellissimo che abbiamo inculato a sangue perché adesso che succede questo evoca la gunkan attiva l'effetto io in culo la gunkan sushinale ecco perché è bello sushi bello bello sushi con 60 carte però porco dio a vero porco dio questo però me lo nega mannaggia la madonna puttana gli devo fare per forza gli devo fare per forza in permanenza è vero che questa nega questa nega l'effetto del mostro del merda di dio male 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 mi ricordavo le altre non hanno questo effetto quindi adesso ciao vieni sotto da me veloce stacco l'ereditiera stacco da rius attivo l'effetto anche dell'ereditiera e vado a prendere il mostro li muoviti fammi attivare l'ereditiera veloce esatto prende per forza bel teschi evocato cos'è blossom la pescata adesso perché uno prende l'arcidevole non voglio fare nulla di sgravo cazzo la madonna ma perché le palle allora il tizio ha giocato solo due carte quindi vuol dire che ancora la possibilità di fare un altro gun can sushi nave peggio ancora questa pesca die pesca due no cosa pesca dieci cosa attiva la terreno male male perfetto quindi probabilmente da inaspettato no wonderful decisione pericolosa questo qua però l'hai già attivato quindi non puoi attivarlo in questo turno di aspettare il turno dopo giusto appena attivato ok evoca questa attiva quella quella si mette un gun de merda in top perfetto e passi no c'era un'altra in mano sto cane de merda c'era un'altra in mano giustamente ok perfetto l'effetto di quelle che spiega evoca un mostro gun can dalla tua mano ma porco dio di merda gesù cane bastardo ovviamente la super poli inutile gesù porco di merda gesù porco inculato ok evoca quella quella torna lì perfetto quella torna là ok vabbè aspetta però adesso puoi fare un'altra gun shashi una gun shashi ok però io te la rifrego però con questa ti fai evocare un altro ti fai evocare un'altra male molto male l'internet sta andando un po così no beh non è vero dai bello puoi fare come si chiama non mi ricordo mai sushi nari come cazzo si chiama sushi dio porco mi fa venire voglia di mangiare il sushi però così sei un bastardo che costa tanto il sushi allora attiva l'effetto ma questa gliela frego ma questa non gliela frego cioè che cazzo gliela frego a fare effettivamente cioè non ha senso tanto l'effetto comunque lo deve per forza attivare non è che glielo nego però glielo frego setto and face ok forse era meglio che glielo fregava mamma morì ammazzato fammi pescare un'altra tour te prego il chiamato dalla tomba il chiamato dalla tomba che mi serve veramente a una minchia forse era meglio incularlo perché adesso potevo mettergli sopra dio porco dio state zitto state zitto state zitto state zitto ok va allora andiamo in battle phase non gli picchio questa perché tanto gli picchio la gunkan sushi nave de merda cosa faceva quella trappola bastarda che ha giù porco dio non mi ricordo che cazzo faceva nascia la madonna non mi ricordo cos'è faceva la picchio ma mai ha fatto blef e mirror alla rivela tre gunkan al to deck se uno di questi ok ok va bene puoi attivare qualche effetto così ti chulo le carte così devo farlo prima gesù cane va bene cambiava tanto effettivamente sì dai va bene aggiungiti quella ok tanto comunque la sushi anguscia in porco gesù nave muore perché muore vai via perfetto main phase 2 ci mettiamo sopra zeus e zeus va bene senza fare troppo i pagliacci setto richiamato me lo tengo in mano richiamato setto in mano perché posso negare qualche effetto dal cimitero che ha già attivato tipo quella magari ma si dà la setto prima attivo richiamato poi dopo attivo l'effetto di zeus il tizio dai non è messo proprio bene bene perché questo dice che i mostri gunkan evocati specialmente non possono essere distrutti ma come ben sappiamo zeus non distrugge ma manda direttamente li manda ok ovviamente la mano bellissima un contratto dell'abisto bellissimo grazie per avermelo fatto pescare grazie di cuo e porco di dio porco 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 di dio oi oi porco di dio no porco di dio no non me l'aspettavo non me l'aspettavo e porco di dio no porco di dio però aspetta forse ti sei inculato da solo ti sei inculato perché perché adesso ti nego l'effetto di quella merda lì dov'è di questa così se ce l'hai in mano cosa che ce l'hai perché te la sei giunta prima non puoi attivare l'effetto no porco di dio cosa fa quella no porco di dio cos'è no no dai no se la metti nel deck così non la rimuovo ma vaffanculo dai ma sei una merda è negato coglione no che palle ma che palle porco di dio ma sfumato richiamato vannaggia di o no si ma sfumato di chiama porca madonna no no gesù no perché me fai questo questo posto è negato l'effetto è negato cioè perché si viene spaccata puoi mettere uno sotto ma è negato non me lo fa fare porco dio maledetto cane bastardo gesù porco pezzo di merda e niente me l'ha ribaltato me l'ha ribaltata anche male cioè bastardo metto off dio cane è negato l'effetto ma perché sempre a me perché perché cazzo di goccioline madonna appunto una carta non devo avere un goccioline per avere in permanenza che dio cane vaffanculo poi c'ho stamano coi contratti abissima che cazzo faccio qualcosa cosa devo pescare c'è un'altra tour ma non la pescherò mai un'altra tour porco cane porco cane de dio ok preta pianta ah vuoi fare la fusione destino bastarda la fusione destino è nostra non puoi farla dai non è giusto ma non è giusto non è giusto fare la fusione destino non puoi farla contro di noi che siamo i cultori della fusione destino nascia cristo quindi anche se dopo pesco tour perso lo stesso cioè cambia in cazzo questo neanche gioca daniele ma gioca daniele no che palle che palle che due coglioni ma sono proprio curioso di vedere cosa pesco ma perché vuoi farmi vedere pure che avevi veiler ah no perché ti vuoi spaccare veiler ok c'ho pure veiler sto cane bastardo ma porco dio un croce o porco dio me l'ha ribaltato al dex usci maledizione ero tutto contento di aver beccato il dex usci invece me l'ha messo proprio dietro ci ha preso il teschio e ci ha cagato sopra porco dio io direi cosa pesco giusto così per farci due risate sarà tipo teschio evocato turno zona mistica del plasma scatta porco dio top perché aumenta di 500 tutti i mostri quindi anche quelli dell'avversario adesso glielo attivo e gliela marammo riammazzata porco dio ma ammazzati ma quello forse mi faceva pescare uno vabbè chi se ne frega va bene bella a tutti ragazzi porco dio il teschio evocato fortissimo vedete come abbiamo abbiamo appena abbattuto sushi ci vediamo lunedì prossimo cioè tra due giorni porco dio la madonna bella a tutti ragazzi teschio evocato top però è abbattuto bizze l'abbiamo perso da sushi tutto posto tutto tranquillo ma non non tanto